Il Prato vince, supera i sedicesimi di finale di Coppa Italia, vincendo a Seravezza per 3-2, una partita pazzerella decisa dalla doppietta di Renzi. Questo Prato sa solo vincere. Sì, hai detto bene, è partita un po' pazzerella, però ce l'avevamo detto in settimana che le squadre forti sono quelle che poi alla fine riescono a portare a casa anche le partite sporche. Quindi siamo stati bravi, oggi secondo me non è stato facile, insomma, un batti ribatti, alla fine il risultato ci ha premiato, ma secondo me è una conseguenza di quello che stiamo facendo perché stiamo lavorando forti ed è giusto che poi alla fine i risultati ci premiano. Insomma, mi sembra la settima vittoria di fila, quindi non è un caso e l'importante è continuare su questa strada. Renzi non fa mai gol banali. Il primo, grazie a Diego Mobilio, il secondo, davvero splendido. Sì, sì, lo ringrazio Andrea perché insomma anche in settimana ci siamo parlati per determinate cose. Lo ringrazio, ma come, insomma, un ragazzo bravissimo, ma come ce n'è tanti in questa squadra. E secondo sì, sono contento e ho scaricato in rete un po' di pensieri personali. Insomma, è bello fare gol, era tanto non facevo doppietta e però davvero sono contento che questo abbia potuto aiutare la squadra a superare il turno. Ora c'è un ottavo importante e insomma noi fino a che si riesce ad andare avanti e si vuole andare avanti. Su questo non c'è dubbio. Una squadra che con Lucio Brando sta facendo girare anche tutto l'organico. Ci sono di fatto 14-15 titolari. Sì, sì, sicuramente, sicuramente ha dato, il Ministero ha dato le chance a tutti, sicuramente. E ti ripeto, è bello che questo Prato vinca, è bello vedere questi tifosi, credo, di mercoledì sera all'otto e mezzo con zero gradi, credo. Quanti ce n'erano, è bellissimo, risulta sotto di loro, è bellissimo l'entusiasmo che c'è. E più va avanti, più noi ci siamo. Ora c'è Masini che dietro mi dice di andare via. Comunque no, veramente, è bello, li ringraziamo e noi ci siamo. Sempre continuiamo a lottare. Comunque no, veramente, è più subito. Comunque no. Grazie a tutti.